Nell'ambito della mostra dedicata a San Giovanni Giuseppe della Croce presso il seminario di Schiaponte c'è anche una poesia di Mario Sacco. Eccolo qui, il poeta Mario Sacco che scrive in un napoletano antico. Sì, è una passione che coltivo già dagli anni del liceo classico e poi ho continuato, anche se al momento non ho ancora pubblicato delle cose. Ma Antonella Buono mi ha spinto, dopo aver sentito Capellum, di esporla qui alla mostra in occasione dei festeggiamenti per il Santo Padrono. Ecco, ce la vuoi far sentire a noi Capellume? Sì, brevemente racconta la storia di una tempesta di mare. Molti anni fa io raccolsi la storia da un pescatore di Schiaponte, i quali furono salvati da un'apparizione prodigiosa di San Giovanni Giuseppe che sopra una roccia, improvvisamente con la luce di una vecchia lampada a olio, durante la tempesta indicò ai naviganti la via per il ricorno. Il tema è questo. Sì, è una passione passata in un braccio corrente e traversa la forza più furiosa oponente, come notte, stanotte, senza carri d'occella, però raffonna il rasaglio e una lanza di lignamma tra rasacche e preghiera. Tanto spuntano capo in un bagliore lucerno, ma anche mona che appare, scende pezzi, ma è vera? Voga ancora un po' che sospirano povinte, e hanno i gumi dei mare, o gli hanno Castiella.